L'Expo è un'occasione per il paese, è una grande vetrina di internazionalizzazione e in Genova è il porto dell'Expo. Storicamente, non a caso parte protagonista di questa mostra è Cristoforo Colombo, che tra le tante scoperte fece anche la scoperta di molti cibi che oggi conosciamo, ma che all'epoca erano sconosciuti, che portò dalle Indie, portò dall'America. E quindi da questo punto di vista è una grande opportunità anche per rilanciare il ruolo di Genova, anche nel settore alimentare, del food, della tutela delle merci, dello scambio internazionale. Quindi storia, ma anche prospettiva rispetto a questo grande evento, che è soprattutto un evento di internazionalizzazione. Genova, che è connesso con 350 porti al mondo, è oggi uno dei principali protagonisti di questo ruolo nel nostro paese. Quindi è una grande opportunità e quindi ci auguriamo che con il patrocino di Expo questa mostra, che sarà itinerante, perché sarà Milano, poi Bruxelles, diventa un elemento anche di divulgazione dell'economia del mare, oltre che del porto di Genova.